Ringrazio voi dell'invito, il tema va in continuità con alcuni degli interventi che ho scritto stamattina e che ho temuto fortemente che mi andassero a rubare il contenuto di adesso, insomma credo che ci sia abbastanza sintonia. Ecco, io al titolo che abbiamo scelto per il convegno, che è quello della Disrupt Innovation, crescita lavoro, ne sostituirei un altro un po' più neutro, però sotto la raffigurazione non è così rassicurante, che è digitalizzazione dell'economia e risorse umane. Siamo in un momento storico, stamattina è venuto fuori da vari interventi, in cui la digitalizzazione è quasi ovunque. Ho riportato due frasi che mi avevano colpito in questo fatto, il capo di JP Morgan che dice qui vogliono mangiare il nostro lunch e Andresen che è uno dei famosi operatori di Venture Capital che dice il software mangerà il mondo. Il tema di fondo cos'è? È che la digitalizzazione assomiglia un po' a quella che è stata l'elettricità. Cioè c'è quasi ovunque. Va a toccare tutti i settori, quindi è estremamente trasversale, estremamente pervasiva e può portare alla nascita di una serie di business model molto ampi. Perché si parla di Disruption? Si parla di Disruption perché è successo varie volte nella storia, ma con una certa intensità negli ultimi 8-9 anni ci sono parecchi settori che hanno subito dei guai molto forti. Io definisco, ma giusto per divertimento, i tre volti della Disruption. Cioè c'è un caso estremo in cui c'è un'innovazione che letteralmente travolge un prodotto, ma se travolge il prodotto o la famiglia di prodotti travolge il settore, le imprese incumbent e tutte quelle della filiera, che è un problema delicato per molte delle nostre imprese che sono inserite in filiere importanti. C'è una forma un pochino più debole che è che l'innovazione rende disponibile un prodotto nuovo. Io quando parlo di prodotto parlo di bene e o servizio o combinazioni di bene e servizi che entra in competizione almeno per una parte degli utilizzi con quelli esistenti. E questo cosa significa? Significa che c'è più concorrenza e ci possono essere problemi sui prezzi, sugli utili e sulla capitalizzazione di borsa. Poi c'è un terzo effetto che a mio avviso è molto interessante, è quello che ho chiamato l'effetto punteruolo rosso. Non so se voi sapete cos'è. Il punteruolo rosso è una bestia che si insinua nelle palme, l'ha fatto anche a casa mia, e le mangia da dentro. Allora l'esempio tipico che si riporta su questo fenomeno è quello di IBM quando era presente nei personal computer. Con la crescita di Microsoft e Intel piano piano IBM è rimasta a vendere il prodotto finale fino a che non ha ceduto l'attività dei pc, ma il peso all'interno di Microsoft e Intel ha continuato a crescere andando a erodere in maniera forte quello che era l'utile dell'operatore finale. Una cosa che potrebbe accadere ad esempio nel mondo dell'automobile dove il peso dell'elettronica si avvicina al 50 per cento, se continua a crescere vuol dire che una parte grossa di quello che avviene degli utili del settore potrebbe finire nella mano dei componentisti come Bosch piuttosto di imprese come Google che operano ancora più a monte. Davanti a questo, come ho detto stamattina, noi abbiamo due atteggiamenti possibili. Uno è la paura della disruption, ma mi avete dato 25 minuti o 20? 20? Era 25 però, eh? No, no, vorrei chiarire. No, perché dico ho fatto quattro slide, ho già consumato 5 minuti e ci sono, diciamo, paura della disruption, opportunità dell'innovazione, quindi c'è un problema le due facce di come reagire attorno a questi fenomeni. C'è un'indagine recente che è stata pubblicata da Financial Times un mese fa, poco più di un mese fa, che è abbastanza interessante, e dice quali sono secondo voi i fattori più significativi fatti negli Stati Uniti che andranno a cambiare la vostra attività nel prossimo futuro. Se vedete le cose non legate alla tecnologia sono all'ultimo posto, dopo ce ne sono delle altre sotto, che sono il cambio nei rapporti di potere fra uomo e donna, o combinazioni nuove che stanno nascendo, mentre tutte le altre hanno a che fare con le cose di cui parlava Stefano Venturi stamattina, vale a dire mobile internet, cloud, intelligente artificiale, machine learning, la big data, internet delle cose, eccetera. Quindi vedete tutte tematiche che nel giudizio di molti andranno a impattare su quello che è il lavoro nel prossimo futuro. L'elemento grosso cos'è? Perché si dice che adesso ogni business è un business digitale? Perché quasi ovunque esiste qualche punto della filiera dove c'è del digitale e su cui si può costruire un business model alternativo all'esistente, che può essere in certi casi estremamente pericoloso, in altri molto meno, ma che comunque può mettere in gioco delle energie nuove. Io torno sul discorso fatto stamattina anche dai miei colleghi Costantino, eccetera, cioè quello che conta alla fine sono i business model, no? Non conta la tecnologia, ma queste opportunità enormi che ci sono di fare delle cose nuove. Io ho la data che metterei, adesso Stefano io sono qui leggermente, abbiamo qualche divergenza sulla data, quello che metterà in luce il 2007. Il 2007 arriva con, c'era anche prima, ma arriva con l'iPhone la possibilità di accedere a internet in mobilità e questo però provoca un fenomeno collaterale forse ancora più forte, che mentre il PC era usato da pochi, lo smartphone ha una diffusione che è impressionante e mantiene collegate le persone, per cui anche c'è il rapporto col social poi dall'altra parte. Quali sono i fenomeni grossi? Io ho fatto un riassunto un po' pedante delle cose che sono avvenute, dalle prime che sono accadute a quelle che stanno muovendosi in questo periodo. I primissimi, diciamo, colpiti chi sono stati? Coloro che hanno trovato come avversari delle cose che si potevano fare attraverso funzionalità presenti nello smartphone, ma non per colpire quei settori, ma perché servivano per far funzionare. Non so, prendete il caso del navigatore portatile. Il navigatore portatile è morto. Prendete il caso di quello che è successo con tutte le chat, con i messaggi. Non sono morte le imprese di telecomunicazione, mi hanno preso una botta impressionante, però la componente che era di moda nei primi anni 2000 dei servizi a valore aggiunto è quasi defunta da quel momento. Prendete le macchine fotografiche, se si guarda la differenza nelle compatte tra il 2010 e il 2014, il mercato mondiale si è ridotto un quarto in quattro anni, quindi un effetto dirompente in maniera pazzesca. Poi abbiamo una seconda categoria di prodotti in questo mio lungo elenco, in cui cercherò poi di rispettare, anche se non troppo, la tabella nuova, che sono quelli che chiamo i prodotti inattivamente digitali o divenuti tali. Cosa metto qui? Metto i videogiochi, metto la musica, metto la televisione, metto i film. Cosa è successo? Che tutta questa roba qui, che prima aveva dei formati differenti, a un certo punto si è trovata ad essere digitale. E questo ha provocato un cambiamento delle regole del gioco fortissimo. Se prendiamo il caso della musica, è vero che qui abbiamo dei cultori che si discuteva ieri sera a tavola, dei dischi in vinile che sono tornati di moda, ma è anche vero che per esempio lo streaming ha preso uno spazio enorme portando via il posto al download che con l'iPod era cresciuto all'inizio degli anni 2000, non quindi tantissimi anni fa. C'è stato quindi anche un avvicendamento nelle cose nuove. Se prendiamo le televisioni in film, sta tutto cambiando. Cioè sfumano completamente i confini tra operatori televisivi, operatori telecom, operatori over the top, cioè i vari Netflix, Google, eccetera. Sono in gara tutti contro tutti in questo momento, cosa che era impensabile prima. Se voi pensate, avere i canali televisivi rappresentava un fatto fondamentale, perché la gente guardare la televisione andava solo lì. Se uno prende millennial di cui parlava qualcuno stamattina, la quantità di millennial che guarda la televisione tradizionale è piuttosto bassa. E c'è la tendenza a guardarsi la televisione fatta in proprio, al limite, usando lo schermo della televisione, se proprio uno ce ne ha voglia. E abbiamo anche alcune di queste case, tipo Netflix o Amazon, che stanno entrando nella produzione dei contenuti. Quindi sono partiti dalla distribuzione e adesso lo spostamento, con questa gara forte che c'è, a spostarsi nei contenuti. Terza categoria, convivenza dei formati. Non la metto dentro, giornali e libri. Forse ci saranno anche delle altre cose. Giornali, sappiamo la situazione, credo che sia abbastanza chiaro l'immagine che ho messo. Abbiamo questo paradosso per cui non ci sono mai stati, come diceva Ferruccio De Borto, di tanti lettori come adesso di giornali, ma in cambio le vendite calano, cala la pubblicità e quindi i giornali hanno i problemi, come la nostra Cerma di oggi sa benissimo, tutti i giornali hanno dei problemi abbastanza seri da questo punto di vista. Hanno un danno ancora più forte le dicole. Perché? Perché non solo c'è una riduzione della vendita di giornali, ma il cartaceo cade ancora di più, perché una parte è passata online, ma senza però riuscire a recuperare lo spazio. Abbiamo un fenomeno che è potenzialmente pericoloso, cioè queste imprese come Facebook e come Apple, che hanno stretto questi accordi a livello mondiale con quelli che sono i più grossi editori, dicendo tu mi dai dei tuoi articoli, ti lascio il ritorno della pubblicità che c'è sugli articoli, ma ci si chiede, la gente poi andrà a leggere il New York Times eccetera, o andrà semplicemente a vedersi questa sintesi che è riportata dagli OTT. Quindi c'è il rischio di un cambio del padrone del gioco che è abbastanza forte. Abbiamo l'e-commerce, ecco l'e-commerce è una creatura che c'era già prima, cioè era nata, se vi ricordate, Amazon nei primi anni 90, quindi è una creatura che però ha avuto un'espansione molto forte, cambiando anche un po' anima. Se voi pensate col fatto che adesso è importante il tempo di consegna, Amazon sta diventando un'impresa sempre più pesante, era un'impresa leggera ma adesso ha camion, navi eccetera, diventa una componente logistica molto importante. Abbiamo modalità di sviluppo diverse, accade qui ma anche nella finanza, tra i paesi nuovi e i paesi diciamo di più tradizionalmente ricchi. Perché? Perché nei paesi tradizionalmente ricchi i nuovi entranti devono sbuttare fuori quelli che ci sono. Nei paesi nuovi invece c'è stata una crescita dell'e-commerce, una crescita della finanza quasi naturale, cioè con tassi in sopra la Cina, 10-12% all'anno di crescita, invece di capire negozi nuovi, la gente ricorreva subito all'entrata e quindi le imprese di questi paesi hanno avuto una crescita più veloce. Questo sapete che c'è il Black Friday e poi il giorno del ringraziamento degli Stati Uniti, che è un giorno in cui storicamente ci sono tantissimi sconti. Quest'anno cosa è successo? Ci sono due fatti importanti. Uno che per la prima volta lo shopping online, compreso quello fatto dalle catene tradizionali, ha superato quello fatto fisicamente. Secondo fatto interessante è che per la prima volta gli ordini fatti via mobile, via mobile, hanno superato gli ordini fatti via PC. Quindi doppio superamento, successo dell'online in generale e successo del mobile all'interno. Altro fatto che mi ha colpito nei giorni scorsi, Gap, che è una delle catene grosse, a 3.500 negozi, ha i suoi siti, eccetera, ha dichiarato che si metterà a vendere attraverso Amazon. Non ce la fa. Cioè non è più capace di tenersi in gara operando da sola. E siamo tra una delle catene molto grandi degli Stati Uniti, quindi abbiamo Walmart che resiste, però andiamo a toccare catene molto importanti in questo cambiamento di funzionamento. Nel sharing economy sapete tutti benissimo cos'è, accesso invece del possesso. Grandi esempi quali sono? Grandi esempi ovviamente sono Uber e B&B, se ne ho parlato anche stamattina. Abbiamo alcuni modelli che ricalcano quelli tradizionali, per esempio se voi prendete, non so come si chiama in un'altra città, Milano c'è il Car2Go, c'è l'Enjoy, eccetera. Questi in fondo ricalcano i modelli storici della rente car. Cioè le società si comprano le automobili o comunque se le fanno mettere a disposizione e quindi hanno investimenti capitali forti. Invece nelle forme tipo Airbnb e Uber gli investimenti vengono fatti per altri motivi. Non è che non investano, ma investono per accattivarsi i tassisti che entrano dentro, per fare prezzi buoni all'inizio di conquistare il pubblico, eccetera. Ma i mezzi non sono loro e quindi come qualcuno proiettava stamattina c'è una differenza enorme tra il sistema che viene controllato e quello che viene posseduto e che richiede investimenti. Airbnb ha questo numero impressionante, centro di Parigi, 30.000 appartamenti disponibili con problemi col comune che dice che si va a cambiare completamente quella che è la natura di Parigi. E Uber sappiamo che è stato un certo un certo discorso. Un'altra cosa che mi ha impressionato qualche giorno fa, una notizia minore se volete, c'è questa Warren che aspira a fare la vicepresidente della Clinton e per ringraziarsela cosa ha fatto? Ha attaccato Uber dicendo che crea questi lavoratori di cui si è parlato anche stamattina, quelli on demand e quindi non sono strutturati, eccetera, bisogna intervenire con leggi nuove. Quindi anche se è un fenomeno questo contenuto dal punto di vista complessivo è un fenomeno che a livello politico ha un impatto molto forte. Abbiamo cambiamenti nella finanza, avevo citato la frase di prima, c'è una stima di Kefame Kinsey che è del settembre 2015 che dice che ci sono delle possibilità con la digitalizzazione di riduzioni fortissime sia dal punto di vista dei fatturati complessivi e dal punto di vista degli utili. Qui c'è una lista della spesa sui pagamenti e trasferimenti, gestione del risparmio, queste piattaforme peer-to-peer oppure marketplace lending, come si chiamano, valutazione del credito automatico, eccetera. Non ho il tempo di soffermarmi, sarò rapidissimo, sapete che nei pagamenti negli anni scorsi è entrata Apple, Paypal c'era da tempo, eccetera, non intervengono le differenze, nei trasferimenti di denaro è entrata anche Facebook, ma le cose forse più interessanti sono quelle di capire come in questo settore le grandi banche siano molto preoccupate di quello che sta succedendo e che stiano cercando di introitare il fenomeno o investendo direttamente, che abbiamo portato il caso di JP Morgan, ma ne ho parecchi altri che potrei citare, o spesse volte capita che CEO passati di grandi banche sono loro che investono personalmente in attività e in start-up che vengono lanciate. Il prodotto più interessante sono queste piattaforme di scambio, cosiddetto diretto, in cui sostanza al posto della banca c'è un intermediario nuovo online, dietro a questo cosa c'è? Tanto c'è la possibilità di avere degli scambi anche su piccole cifre, molto piccole, che altrimenti sarebbero troppo costosi per le banche, ma ci sono questi software di valutazione automatica che sembra che fino adesso abbiano avuto un certo successo, specialmente nei paesi tipo Cina, eccetera, dove la gente non aveva i conti in banca, vanno a fare valutazioni su altri comportamenti della vita, cioè sulle spese che sono state fatte online, vanno a fare considerazioni sul tipo di amici che uno ha su Facebook, eccetera, e arrivano a queste cifre che loro sostengono e danno una certa filabilità. L'impresa che aveva avuto il più successo però, che era il Lending Club, che era arrivata quotata in borsa a valere circa 7 miliardi di dollari, ha avuto uno scandalo un po' italiano recente, nel senso che il fondatore e capo si è preso i soldi con una società sotto falso nome e si gli è prestati, quindi è nato un grosso scandalo e poi una serie di conseguenze. Abbiamo un altro caso interessante, poi finisco con la finanza, quello di RoboAvisor, anche qui abbiamo dentro BlackRock, che è uno dei titani mondiali in questo campo, si è comprata una startup, vuole distribuire questo prodotto, cosa va a fare? Vuole sostituire sostanzialmente gli advisor finanziari, quelli di serie B, cioè sui piccoli consigli non c'è spazio per remunerazioni particolarmente alte e quindi c'è questo software che può aiutare e anche qui dal punto di vista dell'occupazione complessiva non è uno scherzo. Ho portato due casi che c'erano in questi giorni sui giornali in attesa di questo interessante, uno riguarda le big four, quindi le società che fanno audit, ecco qui c'è una tendenza adesso a fare una grossa parte del processo di auditing direttamente con un software. Quindi quello che si aspettano è che ci sia molto meno assunzione di giovani che prima facevano, quando cominciavano il lavoro si occupavano delle cose più elementari, cioè lavori che non avevano creatività ma che richiedevano conoscenza e diligenza e che sono quelli replicabili. Qualcuno stamattina diceva poi l'importante è dove la gente pensa, dove c'è il libero arbitrio che si può aver successo e il resto è fattibile tranquillamente sulla cosa. Abbiamo anche il caso degli studi legali, studi legali anche qui stanno introducendo dei software abbastanza raffinati per andare a studiare ai Stati Uniti che uno studia tutta la storia dei processi eccetera, sostituendo perlomeno in parte quello che era il lavoro umano. Se andiamo a sanità, scuola, università ne potremmo raccontare tante perché sta cambiando fortemente anche noi in università, nei prossimi anni penso che saremo davanti a una gara molto forte. Abbiamo il settore dell'auto che sta cambiando e qui si possono fare varie considerazioni su tutte, cioè l'auto è uno dei casi più interessanti, non ho la possibilità di trattarla oggi, perché si combinano tutta una serie di situazioni, dal passaggio all'auto elettrica, alla trionfo, stamattina qualcuno parlava delle megacittà, quindi il passaggio a forme di sharing economy e di uso congiunto e non di macchine proprietarie. Abbiamo le macchine che si guidano da sole, abbiamo tutta questa crescita dei nuovi componentisti eccetera, che sta cambiando in maniera estremamente forte il settore e ne cambia la natura. C'era una frase che mi piaceva di un altro rapporto che ha fatto McKinsey, che diceva che mentre fino adesso si è di solito lavorato per paese o per regione quando si parlava di traffico, dice che tra qualche anno New York si dovrà confrontare molto più con Shanghai che non col Kansas, nel senso che ci sono situazioni che andranno a ripetersi in paesi diversi, in queste megacittà e che vanno a cambiare quindi il gioco. Il punteruolo rosso ne ho parlato, questo peso impressionante che dall'interno sta crescendo del software e dell'hardware. Nuova frontiera, nel senso che è un problema che è cominciato da poco, è quello che riguarda il manufacturing. Quindi nel manufacturing o l'industria 4.0 come volete, abbiamo varie delle cose che diceva Stefano stamattina, l'industria cloud computing, il big data analytics, l'industria IoT, abbiamo poi tutto il discorso della robotica, l'interfaccia uomo macchina, le tecnologie 3D eccetera. Quindi vorrei dire che mentre fino ad adesso noi abbiamo avuto una situazione in cui l'effetto più grosso era quello legato smartphone, connettività eccetera, c'è un passaggio in questo momento al mondo delle imprese e alla produzione che va a toccare e toccherà probabilmente in maniera molto pesante e come dicevo prima c'è da stare molto attenti perché quando si tocca un processo si tocca tutta la filiera che sta alle spalle. Quindi un'impresa che vive magnificamente in una certa filiera potrebbe trovarsi improvvisamente ad essere spiazzata perché cambia o il prodotto finale o cambia il processo. I motori del cambiamento lo sappiamo, c'è il software sempre più sofisticato, grande uso di intelligenza artificiale in maniera crescente, sensori attuatori che sono sempre potenti e sempre meno costosi, così come costano molto meno i robot che è uno dei motivi della grande introduzione di questi anni e poi il discorso della IoT che fa parlare le cose fra loro. E la disruption quindi appare destinata in questa fase a riguardare non solo i settori come auto e sanità ma, questa l'ho scritta prima di venire da voi, ci credevo già prima, quello che tocca in maniera fortissima sono le risorse umane, cioè anche nelle imprese che potranno continuare felicemente la loro vita va a cambiare il tipo di risorse umane che c'è in gioco. quindi la disruption maggiore probabilmente, quindi il bisogno o di riaggiornarle le persone o di cambiarle riguarda le risorse umane più ancora che le imprese e più ancora che i settori. Abbiamo anche delle opportunità, su cui oggi è stato qualche accenno interessante, discorsi di co-working eccetera, quindi delle modalità di lavoro che possono sfruttare le nuove tecnologie e sfruttarle in maniera molto più intelligente. Occupazione è un problema molto serio, no? Perché? Perché la grande paura cos'è che, come faceva a vedere stamattina Nicola Costantino, non ci sia in tempo immediato la possibilità di recuperare gli occupati che vanno persi in altre attività. E quindi si crea una situazione di accesso e di disoccupazione o alternativamente insieme c'è un effetto di bassi salari, come è accaduto nel recupero statunitense, cioè è ritornata la disoccupazione bassa però con remunerazioni molto più basse. Ecco, queste cose qui chiaramente sono pericolose anche da un punto di vista politico. abbiamo una situazione europea abbastanza tragica, piace la Merkel così, lo tengo sempre in fondo perché so che è questa ilarità. Perché dico questo? Perché l'Europa purtroppo è quasi assente da questo mondo, come se non ci fosse. E quindi cerca più che altro di bloccare. Io rievoco sempre quello che fecero con l'Airbus. Con l'Airbus fecero una politica protezionistica ma costruttiva. Cioè dice io chiudo per un po' di tempo le frontiere, mi faccio crescere una mia attività che diventa importante e competitiva con le altre e sono uscite benissimo. Adesso no, non c'è niente. I paesi che contano ancora sono Stati Uniti e Cina. E poi un po' di altri paesi. Europa non c'ha quasi niente. Qui ho qualche dato che è venuto l'altro giorno a parlare il direttore generale che è un italiano viola del Digital Single Market. Se voi vedete, se avete posto a questa tabella, noi siamo quart'ultimi nella classificazione del ranking fatto sulla base della connettività, nel capitale umano, dell'internet, digital technology e public services. Quindi l'Italia purtroppo è indietro. L'unico fatto positivo è che messa lì in basso, a destra, tra quelli che recuperano un po'. Quindi qualche segno di vita si vede. Occorre darci da fare moltissimo, perché quando queste cose avvengono, il prior disruption cosa significa? E quando poi il colpo arriva è velocissimo. Quindi le nostre imprese devono muoversi con grande rapidità, cavalcando il cambiamento. e chiudo dicendo, i direttori d'orchestra sarete voi. È bella quella mano, eh? Sì, avete un ruolo che è importantissimo, anche perché, come dicevo, non esiste nessun settore che è sicuro rispetto al cambiamento, ma quello che è importante è che abbiate di fianco un CEO che per primo si faccia, diciamo, promotore di quella che è la trasformazione. Senza questo non si fa nulla, cioè bisogna credere nel fatto che il cambiamento deve essere portato avanti in tutta l'impresa. Chiudo con una piccola pubblicità sul mio libro. Grazie. Grazie.